Questo racconto, Un secchio d'aria di Dleiber, è la solita famigliola in cui il papà è un ingegnere o un fisico che lavora alla NASA e quindi capisce le cose come vanno. Lui si rifugia in questa cantina sotto un palazzo, si riempie di strati di coperte, insomma riesce a realizzare una situazione ovviamente protetta dalla temperatura bassissima esterna. In questo caso però la Terra fu strappata da un buco nero da una stella che passava nel sistema solare. Ecco nel giro di poche settimane e mesi quello che accade è che tu avresti l'atmosfera che inizia praticamente come neve ad andare verso la Terra. Quindi loro escono con dei secchi, devono attraversare lo strato di carbonica, di azoto, che sono gli strati grossi, arrivano su in alto dove c'è il famoso secchio d'aria, cioè raccolgono l'ossigeno dentro i secchi, ritornano sotto e lo mettono praticamente a bollire e ributtano l'ossigeno dentro questa cantina.